Dottor Renato Mantegazza, Presidente dell'Associazione AIM, Associazione Italiana Miastenia. Cosa sono le Neuro Immunology Lectures? Le Neuro Immunology Lectures sono delle letture a scopo divulgativo sia per i medici, gli scienziati ma anche per un pubblico più vasto che abbiamo inaugurato nel corso del festeggiamento del centenario dell'Istituto Neurologico Carlo Besta e che teniamo ogni anno. Quest'anno saranno incentrate essenzialmente sul ruolo del sistema immunitario e i meccanismi di neurodegenerazione. Infatti quello che un tempo si pensava essere totalmente scollegato, in realtà abbiamo capito facendo ricerche anche di laboratorio che sono strettamente connessi, cioè il meccanismo di degenerazione neuronale, di perdita neuronale e le molecole del sistema immunitario, che in particolare del sistema innato, possono produrre questo difetto cronicamente. Il suo team di ricerca è multidisciplinare, europeo e coordinato a diversi progetti, sia europei che internazionali. I nuovi studi sono sempre concentrati sul timo e lo sviluppo dell'autoimmunità? Sì, certamente, in particolar modo per quello che riguarda la miastenia. Il laboratorio dell'Istituto Neurologico è concentrato su due temi principali. La patogenesi di questa malattia, in cui il timo svolge un ruolo essenziale, essendo questo organo un organo cruciale, determinante per la formazione del repertorio immunologico delle persone, ma anche, naturalmente, in particolare nella miastenia, negli aspetti patologici. E quindi scoprire quello che succede dentro il timo ci chiarisce quello che sono i meccanismi di malattia. L'altro aspetto su cui siamo concentrati è quello dello sviluppo di nuove molecole che, diciamo così, possono bypassare quelli che sono i limiti delle attuali terapie, che sono fuoriere di un sacco di effetti collaterali. Il timo ha già cominciato a darci una risposta in questo senso, perché abbiamo capito che ci sono delle piccole molecole, che si chiamano Myrna, che regolano l'espressione di geni e quindi attivano o disattivano il sistema immunitario e che nel timo sono presenti. Fate anche ricerca di terapie innovative e personalizzate, perché di miastenia ci sono varie tipologie, è così? Esattamente. La miastenia era considerata un elemento unico, ora sappiamo che è in realtà un contenitore di diverse forme, in particolar modo ci sono diversi autoanticorpi che la sostengono e che quindi generano malattie che hanno dei comportamenti anche un po' differenti e che necessitano di terapie differenti e quindi personalizzate.